Ciao a tutti, sono Inno, coordinatore del Grande Punto Club per la Lombardia. Siamo qua domenica 26 febbraio 2012 in questa splendida giornata a Monza a girare per il 21 speed day. Siamo oltre 50 macchine, divise in due turni, sono 220 cavalli dalle 9.30 alle 10 del mattino, sopra 100 cavalli dalle 10 del mattino alle 10 e mezza. Giornata fantastica sotto tutti i punti di vista, oltre al sole come si può vedere, divertente insomma. Diamo l'appuntamento per l'anno prossimo a Monza.